si chiama gennaro gennaro amico nome gennaro amico gennaro amico gennaro amico andonello 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 un uomo andonello andonello ma adesso avvicinare cammello o cammello ma che teme andonello 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 ma nel cognome andonello meguini andonello mi gennaro gennaro un altro cammello gennaro amico gennaro amico senti gennaro amico gennaro amico ciao amico sino a me ma o rom non è mister ami domani che sei andonello o gennaro e gennaro no ciao andonello da federico federico chiama che non ma secondo me chiama 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 rossa laura 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 nardi ardi se chiama hardy hardy laura ardi no picchiatelo picchia 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 dosso picchia bravo bravo la posso dire picchi 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 io ho un anello no chiama lino cosa fa ? Laura non è il gioco, sta qua sta qua lino Laura, lui si chiama Laura Ciao Laura Ciao Laura ci vediamo alla prossima Cognome Ardi Laura Ardi Laura Ardi ci vediamo alla prossima Ma cazzo fa? E' questo? Leopardo africano, si chiama Manuele Rocchi Questo? Manuele Rocchi No che cos'è? Leopardo africano? No parla Leopardo africano? Manuele Rocchi Si chiama Manuele Rocchi Cos'è? Leopardo africano? Emanuele Rocchi No! Nome! Emanuele? Emanuele? Ciao! Ciao! Buon cartello! Sa qui è Manuele! Manuele? Rocchi! Emanuele Rocchi chiama? Qui sono tu? Due? Emanuele Rocchi! Oh oh! Ciao Emanuele Rocchi! Uh 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 uh! Cazzo fa! Cazzo fa! no a vedere giaguaro manuele che chiamano chiamano manuele con nome rocky rocky nome e cognome emanuele rocky bravo bravo emanuele rock ma che cazzo fa ma no vede lino jove lino jove va già guarda si chiama lino eccolo lino jove come on